Allora, il progetto di Aria Popolare in Marche di Influenza è un progetto nazionale, le Marche si confermono come un laboratorio nazionale? Sì, è un progetto importante anche perché a fronte del disfacimento complessivo del centro-destra c'è solo una possibilità per ricostruire un'alternativa a Renzi e al partito, al monocolore in Italia sembra di essere nel partito democratico, è quella di ripartire dai territori, dalle persone credibili da persone che pur provenendo da esperienze diverse capiscono che la politica è mettere al servizio le proprie capacità, al servizio della gente come è accaduto qui nelle Marche Spacca e il progetto di Aria Popolare può essere un grande segnale per la ricomposizione di un'alternativa a Renzi e alla sinistra Ui, come stai?